che hanno questo gioco anche se è gratuito e scusate se sentite tutto tipo che parlo male o così è perchè ho il volume del microfono alto ok siamo andati subito sul primo zombie prendiamo questa cosa e la useremo come arma ah mi ha fatto anche abbastanza danno ora entriamo qua dentro vediamo uh pantaloni e qui c'è qualcosa vediamo no qua non c'è niente ok allora lo scopo della missione sarebbe non morire molti di voi l'avranno già sentito questo gioco e quindi vabbè vi lascio il video con me che parla però vediamo qua non c'è niente niente c'è cibo c'è cibo no qua c'è radiazioni ecco te parea e andiamo subito a cercare un altro zombie da uccidere è appena arrivato anche un messaggio vabbè lascio stare per ora ho un'idea ci abbassiamo e quando siamo lì lo colpiamo ok colpito colpiamolo colpiamolo vai uh mi ha droppato una carota vediamo tipo nell'inventario se c'ho qualcosa di utile inventori allora ci mettiamo questa che c'ha un bel po' di vita messa ah ma io c'avevo questa che figo pantaloni e mangiamo la carota io direi mangiata uh ma ti dà anche acqua fantastico là c'è un altro zombie cosa dite andiamo ad attaccare secondo me sì qua dentro c'è qualcosa c'è nessuno a me sembra di no uh cibo preso eccolo là andiamo subito quel mega colpo e ora lo colpiamo fatto vediamo mi ha dato uh il suo cappellino prendiamolo andiamo sull'inventario andiamo ah me l'ha già messo ok sì sono un farmer con sto cappellino cappellino e andiamo a vedere qua sterminiamo tutti uh lì c'è un altro raschiello qua c'è qualcosa no 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 questo cos'è boh eeeh cibo 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 niente niente fucile oh è pistola mi sa pistola no 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 questo qua mi uccide no non ce la farai andiamo con questa vediamo com'è se è utile se è utile però mi sa che c'è zero colpi e infatti questa cos'è una mappa se c'è zero colpi che parea andiamo con questo allora per ora ucciso questo mi ha dato niente un ombrello qua apriamo cos'è quella roba voglio prendere tutto ho preso anche un altro raschiello quanto sangue ah ma è un piccone che figlio ah no è un ombrello è un piccone boh vabbè vedo questa cosa qua la felpa gialla yellow scotch 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 è utilissimo puoi crearti roba scotch zainetto fantastico un martello un martello sapete cosa vuol dire sfondiamo la testa agli zombie colla fantastico andiamo su inventario prendiamo sto martello e lo mettiamo al posto di questo anzi no leviamo questo e mettiamoci questo fantastico sfondiamo lì la testa vai andiamo andiamo ad attaccare questo qua mi killa mi killa mi killa con uno di vita vacca boh devo subito trovare del cibo ah in giusto io c'è la mia scorta di cibo mangiamo ok ora mi si dovrebbe rigenerare la vita vediamo ancora un po' di questo quanto dura quel cibo un po' mi dicono vediamo vedete vedete mi si sta rigenerando la vita vediamo riuscirò a trovare un veicolo da guidare a parte che sono un abissio ah no mi fa le note risponding aspettiamo un po' e dai sbrigati ok è ripartito aspettate eccolo qua fatto andiamo qua dentro c'è nessuno vero perché c'è pochissima vita qua c'è roba no andiamo qui c'è nessuno c'è uno zombie te parea coltellino medico vai con questo qua strada tanto danno tipo metti che ah no un coltello da cucina mettiamolo 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 vai così no no non mi devono passare tanto e andiamo da dietro uccidilo uccidilo ecco sono morto tra l'altro la musichetta è epica sotto quando muori è andato vabbè lo zainetto me l'ha tenuto vero vero no perché non vorrei che fosse spawnato senza lo zainetto che lì sì che sono bip amari ok siamo a un fiume un fiume e delle case delle case e un fiume cosa potrebbe esserci una caserma secondo me secondo te secondo voi volevo dire vabbè andiamo avanti corriamo 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 mi sono anche disegnato te parea vabbè caserma mi sa eh sì o ci sono dei superstiti dei superstiti devo trovare un modo di entrare questo qua lo posso rompere no questo qua cos'è parlo della luce perché me l'ha segnata in rosso ma mi spacco le nocche se vado avanti a picchiare è tutto rotto proviamo a farci il giro intorno un destro un sinistro un destro un sinistro e muori bella questa lag questo cosa boh mi sta un po' laggando ma io posso posso mirare raga vediamo subito come funziona sta roba che non non lo so speriamo speriamo che faccia poco rumore via 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 c'è nessuno ok non c'è nessuno andiamo dritti vediamo un po' se questa roba qua me ne tira un po' ucciso mi ha dato un corda vediamo se riesco ad andare avanti niente sono un po inseguito vabbè ne hanno perso ma io non ho capito forse sia una casa ma lag coach vai così poi con la scotch cosa 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 ok non accorrevo abbastanza è meglio allontanarsi da sta zona però vorrei vedere dentro questa casa se c'è qualcosa di utile quindi andiamo dentro c'è nessuno vero fantastico c'è poca gente credo se non c'è proprio nessuno siamo fortunati c'è proprio qualcuno qua volevi andiamo di qua andiamo di qua prendiamo questo quasi quasi dimenticavo di dirvi che qua ogni tanto si trova anche tipo come si dice pistole roba così anche dentro le case perché magari ho trovato un cappello e qua una giacchetta martello vai col martello un libro un raschiello e da qua io potrei cechinare però se ci avessi il fucile da cechino tipo qua sul tetuccio c'è il zombie qua e finchè mi voglio qua riesco a scendere senza farmi danno si corriamo quanti colpi c'ho ancora 5 ok beh dai niente male siamo stati fortunati che quello la ci ha dato quella ricarica no tu devi ricaricare barretta di ciccolata penso zaino e beh dove c'è la scuola ci sono anche dei zaini logicamente ricaricare un po' qua andiamo qua e facciamo una cosa io levo questa e dopo la rimetto ricarica non c'ho colpi proprio vabbè vabbè prendiamo l'arma numero uno che è il mio martello e andiamo qua c'è un altro zaino prendiamo anche questo mmm bella questa posso colpirli allora mettiamola facciamo così mettiamo questa al posto dell'arma della pistola ok ora andiamo ad attaccare via 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 all'attacco allontanati 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 ti ho detto mi ha droppato qualcosa no vero ok niente male dai andiamo qua oh oh Corri e salta. Dottori in camice. Ma si sanno curare questi? Eh, dato che sono in camice mi sa di sì. Cos'è questo? Una seringa. Ma di cosa? Vediamo. Il vaccino. Ah, forse ho capito cosa mi serve. Già, proprio quello che pensavo. Per la vita. Qui si facevano i vaccini. Qua spacchiamo un po'. Mi ha dato qualcosa? No. Qua apriamolo invece. Forse è meglio. Mi ha dato qualcosa? No. Vabbè. Qua ce n'è un altro. Prendiamo questo. E andiamo. E' inutile che ti vuoi mettere contro di me. Non ce la farai. Ma quanta roba hanno questi? A parte che sono dottori e quindi ce ne devono avere di roba. Però non mi sembra normale. Qua c'è qualcuno. Eccolo. 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 Qua ci muoio. Qua ci muoio. Vabbè. Direi che con questa morte il video può concludere. Un abbraccione. Un salutone. Spolliciate. Iscrivetevi al canale se non l'avete ne ancora fatto. Condividete. Eccetera eccetera. Ciri ciao gente. Sì.